Marco Odermatt è tornato ed ha vinto di nuovo, anche se sofferente per una contusione al menisco del ginocchio sinistro rimediata a Kitzbühel. Marco Odermatt è andato oltre il dolore. È stata una gara molto speciale per me. La testa può fare molto, anche grazie all'adrenalina della gara, anche se nel warm-up ho avuto problemi. Ma poi sono partito, sciolto, leggero, senza pressione ed è bastato per vincere. Battuto l'avversario principale Alexander Omot-Kilde, secondo a 35 centesimi, che ha riconosciuto il valore della vittoria dell'avversario. Ottimo terzo posto per Mattia Casse, che sta mettendo in mostra una crescita agonistica notevole, è sul podio per la terza volta in questa stagione. Le prime due in discesa, questa volta in Super G. Bello riconfermarsi, poi di nuovo un altro podio di valore con Odermatt e Kilde. Oggi sono un pochino più vicino, quindi questo fa ben sperare, sono sulla strada giusta e, come detto, inizio di questa stagione, battere il chiodo, batterlo finché è caldo, ma continuare a sciare solidi e a far velocità. Buon decimo posto per Matteo Marsaglia, lontano Paris, caduta per Christoph Inerofer, per fortuna senza gravi conseguenze.